Siamo veramente orgogliosi di inaugurare stamani questa struttura innovativa assolutamente a livello territoriale dove veramente speriamo di dare una risposta alle vere e reali esigenze delle famiglie del territorio perché veramente qui i bambini possono essere accolti, possono essere istruiti, educati, formati a diventare cittadini del domani in una realtà che è veramente all'avanguardia sia da un punto di vista strutturale, un ambiente bello, sicuro, come diceva prima l'assessore un ambiente dove veramente si spera che le famiglie possano affidarci i loro figli, il loro bene più prezioso nella maniera più serena e più bella possibile questa veramente è una struttura all'avanguardia noi abbiamo lavorato anni, stiamo lavorando da anni questa oggi è un traguardo, abbiamo raggiunto un traguardo, un'inaugurazione ma è soprattutto un punto di partenza per una progettualità che sta vedendo una forte sinergia fra i nostri insegnanti fra il nostro personale, ringrazio tutto sia il personale e le docenti della scuola insieme alle due fisci e ai lavoratori del lavoro, dei servizi educativi della prima infanzia proprio nell'ottica di crescere insieme, nell'ottica di una progettualità veramente condivisa una sinergia fra i nostri due enti, la scuola da una parte, l'amministrazione comunale con i servizi della prima infanzia dall'altra che stanno costruendo insieme veramente un progetto importante un progetto veramente condiviso in cui tutti i giorni facciamo un passo in avanti in cui tutti i giorni c'è una crescita, c'è una formazione, c'è un miglioramento proprio per dare risposta a quello che veramente è l'esigenza di oggi delle famiglie cioè da affidare i loro bambini in una struttura che sia veramente un'opportunità di crescita di innovazione, di formazione per loro